ok L'eccezionale ragazzi a 25 metri d'altezza, Alex Trini, vai! Vaila! Vaila! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oh! Oh! E' tutto bascito, dice. Allora, è veramente eccezionale, ragazzi. Passi il passaggio del massimo, ok. Epa! E si tondola così, si cambia tutto. Dai, ancora! Anderò, andiamo! Anderò, andiamo! Ragazzi, stiamo parlando adesso di tondola, e si fa veramente veloci, dai! Vai, andiamo! Vai, andiamo! Vai, andiamo! Vai, andiamo! Vai, 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 vai! Adesso! Invento! Oh, c'è ragazzi, dai! Veramente velocissimo! Oh, c'è ragazzi! No! Oh, c'è ragazzi! Oh, c'è ragazzi, dai, ma no! Oh, c'è ragazzi. Oh, c'è ragazzi! Oh, c'è ragazzi! Oh! Questo è ragazzi! Occhio ragazzi, la velocità, i passaggi finali al massimo livello, così dai, repa, viamo! Allora com'è ragazzi, un attimo di relax, tutto posto, si? Molto bene ragazzi, oi là, attenzione adesso, il finale? Carmine, la Carmine non è un bus, Carmine sta morendo! Oiii là, super! Ok, la finalissima così, oi qua! Così eccezionale! Carmine, non sta bene! Molto bene ragazzi, forza!